Chi è Lena A? Lena A è il mio nome d'arte, sono una cantautrice di pop elettronico italiano e cerco di farmi spazio in questo grande panorama musicale, sempre molto pieno, ma anche molto bello. Il tuo nome d'arte come nasce? Sappiamo che Lena è il nomignolo che ti ha dato la tua migliore amica. Nasce appunto da un soprannome che mi ha dato la mia migliore amica, anche perché ero stanca di essere chiamata per cognome e finalmente e fortunatamente lei ha saputo darmi giustizia e quindi ho deciso di portarlo con me come se fosse una sorta di portafortuna. Sono però anche molto molto legata al mio nome che è Alessandra, quindi ho deciso comunque di trattenerne una piccola traccia attraverso una appuntata. Da qui Lena A. Qualche curiosità su di te che ancora in pochi online sanno o non sanno proprio? Vediamo, sono una grande appassionata di poesie. Mi piacciono moltissimo, ho iniziato ad apprezzarle da circa 3-4 anni, essendomi iscritta a lettere all'università. E devo dire che da quel momento, da che rifiutavo completamente la poesia, ho iniziato a leggerla e mi piace moltissimo leggerla in lingua originale. Quindi per il momento leggo solo italiano e spagnolo, perché sono le uniche due lingue che conosco. E quindi qual è la curiosità che in pochi online sanno che non so l'inglese? Nella tua bio si legge, ogni canzone è una metafora. Qual è quella del tuo singolo Pineta? Pineta come libertà, intesa come un luogo di grande respiro, con l'ombra e al contempo anche la possibilità di intravedere il sole, che solitamente si riflette tra i alberi, quindi un sentimento proprio di libertà assoluta e anche nell'idea proprio di lasciarsi andare, di poter respirare il verde, tutto quello che si appunto respira in un bosco di pini. Hai seguito Sanremo? Chi ti è piaciuto di più? Sono una fan sfegatata della rappresentante di lista, quindi direi che a prescindere da tutto metterei la rappresentante di lista. Mi è anche poi piaciuto, devo dire, il brano. Poi, beh, in realtà in questo momento non ricordo tantissimo, però sicuramente Noemi con Glicine e anche le sonorità di Gaemon mi sono piaciute molto, devo dire. Ah, i Comacose. Mi sono piaciuti moltissimo, me ne sono resa conto soltanto dopo quando su Spotify non facevo altro che cercare fiamme negli occhi. Con quale artista italiano ti piacerebbe collaborare? Mi piacerebbe collaborare nel panorama italiano emergente, o poco meno che emergente, quindi che si sta facendo conoscere al pubblico più vasto, Ginevra e Emma Nodde. Trovo che abbiano una sonorità molto molto interessante, ma soprattutto abbiano una scrittura impressionistica in grado di lasciare delle immagini a chi le ascolta. E questo è quello che io cerco solitamente quando ascolto un brano, soprattutto se è in italiano. Cosa ci dici a proposito della stragrande concorrenza che oggi c'è in campo musicale? Che è un dato di fatto. Che Spotify, così come le piattaforme digitali, hanno reso più accessibile la musica, questo ha dei pro e dei contro, ma c'è una stragrande maggioranza di persone che fanno musica. È un dato di fatto. L'importante è cercare di proseguire e proseguire la propria strada e farlo bene. Bene, io vi saluto e vi ringrazio. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.